Un'altra cosa, adesso ci spostiamo invece sul piano diritto d'autore. Perché? Perché di riproduzione dell'arte figurativa troviamo una citazione, una menzione all'interno dell'articolo 87 legge sul diritto d'autore che definisce le cosiddette semplici fotografie. Questa parte qua i miei studenti l'hanno fatta, dovrebbero saperla. Cioè il diritto d'autore italiano fa una distinzione tra fotografia creativa e fotografia di mera documentazione, fotografia semplice e la definizione di questa fotografia semplice la troviamo nell'articolo 87. Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Quindi una foto fatta a un quadro è già di per sé non creativa ma viene considerata semplice fotografia per il diritto d'autore. Vent'anni dallo scatto, non settant'anni dalla morte. È una bella differenza. È esattamente il diritto che hanno i fotografi che realizzano i cataloghi delle mostre, che realizzano i libri di storia dell'arte. Quando vendono agli editori questo loro diritto, vendono questo diritto qua. Articolo 87. E rimangono fuori, guardate, non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte d'affare, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Quindi se la fotografia non è di una opera d'arte ma è di uno scritto, di un documento, la legge dice che non è neanche considerata una fotografia vera e propria. È come se fosse una scansione, cioè è una mera riproduzione di uno scritto. Occhio che c'è le fotografie di oggetti materiali interessanti, cioè tutti i cataloghi, i cataloghi dei cellulari, che sono tutti uguali, sono tutte seriali quelle foto lì. Secondo il nostro diritto d'autore quelle lì non sono neanche delle vere fotografie, non sono tutelate da nulla, perché sono foto di oggetto materiale. La mia domanda, bravo, la mia domanda è la fotografia delle documentazioni di scavo. È una domanda che mi hanno fatto una volta ad un convegno. Documentazione di scavo vuol dire che quando c'è uno scavo, trovano una villa romana facendo un centro commerciale, fermano tutto, mandano un fotografo a documentare. Sono foto di oggetti materiali, ma secondo me anche meno, cioè nel senso, perché se è foto semplice è vent'anni dallo scatto. Ma se io sto facendo le foto a un mattone, che magari è un mattone che ha messo lì un muratore romano nel centro avanti Cristo, quindi da un punto di vista storico-culturale è importante, ma sempre oggetto materiale è, non è un'opera creativa. Ecco, su questa cosa ci sarebbe da discutere. Comunque, iniziamo a mettere un po' la luce, però ecco, questa definizione è stata, in un certo senso, ridotta nella sua portata, dalla nuova direttiva copyright. Nuova direttiva copyright, nuova che ormai, insomma, ha tre anni e passa, però nuova per noi perché è stata recepita con un po' di ritardo nel 2021, l'anno scorso, novembre del 2021. Cosa dice? All'articolo 14 ha un articolo fantastico. Opere delle arti visive di pubblico dominio. Gli stati membri, le direttive europee non parlano alla gente, parlano agli stati, perché sono direttive, quindi i legislatori poi le devono recepire. Gli stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera dell'arte visiva, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi. Cioè, se io faccio la foto a un quadro che è in pubblico dominio, non ho neanche quel diritto là all'articolo 20, niente. E' pubblico dominio. A meno che il materiale risultante sia originale. Cioè, se io contestualizzo, prendo la statua, la metto in un contesto particolare, gli metto una modella dietro, gli metto i fiori in un posto in cui non c'erano, gli metto luce in un certo modo, faccio una cosa che non è la mera riproduzione della scultura, ma è una fotografia creativa, allora torno sul diritto d'autore. Ma se è la foto da catalogo, funziona meglio con i quadri che con le sculture, perché con i quadri la foto deve essere, che disse qua, deve essere bidimensionale, deve togliere qualsiasi tipo di effetto, deve riprodurmi come il quadro. Ecco, i fotografi non hanno più quel diritto, a meno che stanno fotografando, ripeto, Picasso, Modigliano, cioè il Novecento, diciamo gli autori del Novecento, quelli sono ancora tutelati, quindi può generarsi il diritto, ma che è un diritto più che altro dell'autore del quadro che vive ancora di riproduzioni. Voi leggete questa norma e dice, ah ma quindi abbiamo risolto il problema. Arrivata la direttiva a dire al legislatore che questa cosa qua la deve togliere di mezzo, e poi nel dubbio, quando si legge una norma sulla direttiva e non siamo sicuri, si vanno a leggere i cosiddetti considerando, e considerando sono delle sorte di note esplicative per ogni norma. Questa norma viene spiegata considerando 53. Ancora più chiaro, la scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel pubblico dominio e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzione fedeli, che io ho chiamato pedisseque fedeli, di opere di pubblico dominio favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni, attraverso il diritto d'autore o attraverso i diritti connessi, il nostro è un diritto connesso, quello dell'articolo 70, è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Cioè, cosa dice il legislatore europeo? Che se noi continuiamo a creare un diritto fotografando i quadri, questi qua non saranno mai in pubblico dominio. Cioè, per avere il pubblico dominio devi andare tu al museo e fargli la foto tu. Cioè, per avere una foto che è libera, perché l'hai fatta tu, quindi il diritto connesso non ce l'hai. Se no, continuiamo a aggiungere un strato di diritto su cose che sono cadute in pubblico dominio o, come ho spiegato all'inizio, il diritto d'autore non l'hanno neanche mai visto passare. Allora il legislatore dice, mettiamo un fine, uno stop a questa cosa. Inoltre, bellissimo, cioè, qual è lo scopo delle direttive europee? Livellare, uniformare, esatto, uniformare le normative, livellare le varie discrasie tra normative di 27-28 stati che non sono sempre allineate. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di Italia e le produzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione trasfortaliera delle opere e delle arti visive di pubblico dominio. Jean-Paul Gaultier non lo sapeva o lo sapeva? E se ne è sbattuto, boh, secondo me lo sapeva. Però magari dicono, ma io da noi in Francia questa cosa non c'è o se c'è, è diversa e quindi noi pensavamo di poterlo fare. No, in un contesto europeo non dovrebbe essere così, dovrebbe esserci più chiarezza, almeno all'interno degli stati membri dell'Unione Europea. E quindi il legislatore fa le direttive apposte, il legislatore europeo fa le direttive apposte con questo scopo. Alcune riproduzioni di opere e delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio di vendere riproduzioni come ad esempio le cartoline, i gadget, queste cose qua. Vabbè, ma nessuno vieta al museo di farsi i gadget. Questo è un considerando, quindi è un commento. Alcune riproduzioni di opere e delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto e perché alcune invece hanno il diritto d'autore ancora. In quel senso, cioè se io riproduco Picasso o Dalì o Basquiat sono ancora protetto. O Banksy. E tu dici allora, letta la norma, letto il considerando, più chiaro di così, il legislatore italiano a un certo punto dovrà abbassare la testa, gliel'ha detto in tutti i modi. Arriva il decreto italiano, arriva nel novembre del 2021 il decreto legislativo 177 e inserisce all'interno della nuova legge sul diritto d'autore un nuovo articolo, il 32 quatter. Leggiamolo. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera dell'arte visiva, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto a diritto d'autore e a diritti connessi, salvo che costituiscono un'opera originale. È il copia e incolla dell'articolo 14, parafrasato leggermente. E tu dici, oh, vabbè, l'ha capita, suspense, restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di quel decreto legislativo. No, non l'ha capita. Secondo, ce la sta facendo, ce la sta facendo. No, non ce la fa. Uguale, ecco. Nel dubbio, questa frase ci toglie il dubbio che l'abbiano fatto per errore. No, no, l'hanno voluto proprio così. Ok? Il codice dei beni culturali non si tocca. E il ragionamento loro qual è? La direttiva era una direttiva sul copyright. Noi abbiamo toccato la legge sul copyright. Le altre non le tocchiamo. Stiamo poi a discutere, se volete, che non funziona proprio così il diritto. Cioè non è che io gli cambio posto e ho risolto il problema. O gli cambio nome. Esatti, ma loro ti dicono che non è un diritto connesso, è un diritto di tutela del bene culturale. È capito? Il gioco è quello. Io te lo sposto in un altro testo normativo, lo chiamo in un altro modo e sono a posto. È come se la direttiva, faccio un esempio provocatorio, la direttiva sulle concessioni delle spiagge, di cui si discute molto, ovviamente all'Italia piace poco, e allora io non le chiamo più concessioni, le chiamo Antonio, le chiamo Giuseppe e ho risolto il problema. Dite uno, perché se funziona così ci togliamo dalle scatere un sacco di direttive scomode, fastidiose per l'Italia. Cioè se basta fare così, cambiare nome, mettere il testo in una norma di un'altra parte, diciamo in un altro testo, e dire no, no, ma quella è un'altra cosa. Eh sì, esatto. Arriviamo alla chiusura della parte sulle norme, e poi andiamo sulle critiche. Le linee guida. Arrivano queste linee guida anche lì, recentissime di giugno. Sono cinque testi di linee guida, alcune molto tecniche. questo è estratto dal testo, dal sito, delle linee guida. Non sono del Ministero, ma sono dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, che però è un ente interno comunque al Ministero della Cultura. Definiscono, vedete, approcci e procedure, e forniscono riferimenti formativi e non prescrittivi. Quindi non sono norme. Cioè io l'ho inserita nella parte del quadro normativo, ma non sono vere norme. Perché sono delle indicazioni, delle linee guida appunto. Però quella che viene chiamata tecnicamente soft law, cioè legge che non è legge, legge morbida, che però di fatto poi diventa legge. Provate a discutere col vostro commercialista su una circolare dell'agenzia delle entrate. Non è mai capitato il piacere, no? La circolare dell'agenzia delle entrate non è una legge, non è un decreto. Però vi assicuro che è una delle cose che vi, come dire, determina il fatto che voi dobbiate fare una cosa o un'altra quando fate la dichiarazione di reddito o quando dovete contestare delle fatture. No, andiamo a vedere la circolare che ha fatto l'agenzia delle entrate di Perugia. Vabbè, comunque, chiuso il discorso. Queste non sono prescrittive. E poi si rivolgono non ai cittadini, al personale. Cioè sono linee guida per i dipendenti, dei musei, delle forze avventendenze, dei vari enti pubblici, che devono in effetti gestire questo problema che è complicato. Perché vista la situazione devono anche loro spaccarsi la testa. E in effetti, lo dico subito perché non voglio che se la prendano male, quelli che hanno fatto queste linee guida hanno fatto un lavoro eccellente. perché hanno fatto veramente un testo super super dettagliato, scritto bene. Il problema qual è? Il problema è che essendo scritti da gente che lavora per il ministero non diranno mai che la norma di partenza ha un problema. Quindi loro danno per scontato che il quadro normativo sia il Vangelo, no? Quindi non mettono in dubbio quell'articolo 107-108, no? Lo prendono come una cosa acquisita e quindi trovano il modo di farlo funzionare. E l'hanno trovato bene, indubbiamente. Ma il mio problema è, ragioniamo sulla sensatezza di tutto questo sistema. Vabbè, vi ripeto, non possiamo leggerle bene. Comunque le potete, chi vuole approfondire. In particolare, i capitoli 4, 5, 6 e 7 che sono quelli relativi proprio a cosa bisogna fare per gestire le varie richieste, le modalità di pubblicazione, di digitalizzazione. Interessante l'etichetta beni culturali standard che è una sorta di creative commons che si è inventata il ministero per rendere facilmente comprensibile le modalità di utilizzo delle opere del patrimonio culturale italiano agli occhi anche di gente che non conosce la normativa o che viene da altri paesi. Quindi tu arrivi e vedi... Adesso inizieranno, perché è da giugno che c'è sta cosa inizieranno a circolare con un metadato che individua sai che i metadati sono strutturati come termini di utilizzo c'è un metadato che è sui termini di utilizzo non c'è una creative commons perché la creative commons non ha senso non c'è diritto d'autore ma c'è un diritto di beni culturali e allora hanno fatto sostanzialmente una creative commons che invece di basarsi sul diritto d'autore si basa sul diritto beni culturali che di fatto è una ccbai una mera attribuzione.